bella raga bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale ragazzi oggi è aggiornamento settimanale del 0902 2023 e iniziamo subito da leggendari e finalmente abbiamo il nuovo veicolo ragazzi la declasse broadway questo qua dovrebbe essere il taxi facendo determinate cose con il nuovo business dovremmo sbloccare anche la livrea taxi ragazzi quindi compriamola che poi facciamo l'unboxing della macchina in un prossimo video quindi ragazzi a questo punto abbiamo in saldo la entity la nuova entity e abbiamo anche in saldo ragazzi la roswell ragazzi questo vecchio macinino carino l'avevo anche droppato in passato non ci sono altre auto ragazzi in sconto quindi possiamo passare direttamente al casino dove per l'appunto abbiamo in sconto e sul podio la roswell ragazzi se volete vincerla e non comprarla vi lascio magari in descrizione il link per girare la ruota all'infinito del casino ragazzi questo glitch non è ancora stato pacciato quindi vi invito a farlo a questo punto ci teletrasportiamo regà dal nostro ls auto da 1 qua sul podio abbiamo la declasse 8 drafter ragazzi dopo di che abbiamo i soliti veicoli di prova che sono sempre i stessi ci li rigirano sempre abbiamo la vectre abbiamo la mp ragazzi sono le macchine del dlc precedente infatti come vicolo di ao ci hanno rimesso per l'ennesima volta questo veicolo qua quindi andiamo a vedere cosa c'è nelle attività non c'è niente ragazzi ci sono solo due attività contate vedete voi se farle io adesso mi teletrasporterei ragazzi direttamente dai nostri nuovi saloon io andrei da questo dove ci propongono la mamba per l'ennesima volta ragazzi stamacchina gira su gta dopodiché ci danno la gb 700 una macchinina ragazzi di 007 a questo punto andiamo da simeon quindi teletrasporto regà e una volta qua da simeon avremo un po di veicoli ragazzi quindi ovviamente abbiamo la brodoi che il veicolo nuovo abbiamo i due veicoli in sconto ragazzi e ci propongono altri due veicoli che abbiamo già visto e rivisto quindi a questo punto se vi piaciuto il video lasciate un like lasciate un commento supportate savix e condividete i miei video altrove ragazzi vi consiglio di guardare i short perché ultimamente tante cose le metto negli short facciamo prima e sono più comodi bella regà alla prossima sbada bam ciao